L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando irriti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prelega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Parola del Signore. Alleluia, 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 Alleluia. Comincio l'Omelia con un grazie, anzi con alcune grazie. Mi unisco al vostro grazie, la festa è per voi e per tutti noi. Che bello rivedere, l'avevamo già visto in comunità, il filmato di Papa Francesco, insomma che bello rivederlo qui insieme con interventi dei ragazzi e commenti. Grazie a tutti voi, grazie in particolare a Madre Elvira che ha lasciato operare in lei la grazia di Dio. Grazie a Padre Stefano, a tutti i sacerdoti che sono qui presenti, a tutto il lavoro che avete fatto per organizzare questa festa. E un grazie grande anche per chi fa il lavoro delle traduzioni. Saluto tutti, cerco di non parlare troppo in fretta. Se parlo troppo in fretta, fermatemi. Alzate la mano, come si fa dal dentista. Se fa male, alza la destra. Questo Vangelo, che tutti sappiamo bene, leggiamo ogni anno il mercoledì delle ceneri, è una pagina grande come tutte le pagine di Vangelo ed è anche una pagina graffiante che ci tocca da vicino. Non a caso la Chiesa ce la fa leggere il mercoledì delle ceneri mentre iniziamo il cammino verso la grande festa della Pasqua perché è un grande specchio. È un grande specchio dell'amore di Dio che ci vuole sinceri, autentici, ci vuole liberi, ci vuole figli che percepiscono l'amore di Dio. E allora mi fermo un momento con voi a commentare questi aspetti. Gesù, che è un meraviglioso osservatore e che conosce il cuore di tutti, doveva essere rattristato quando vedeva il male perché chi è santo quando vede il male non gli viene tanto da criticare, puntare il dito. Ma soffre e ama di più. E quindi quando Gesù incrociava il male cominciava già nel suo cuore la croce. Soffriva. E Gesù, constatando come soprattutto i capi, non diciamo tutti, ma una parte dei farisei, degli iscrivi, degli anziani, cercavano cercavano continuamente l'ammirazione della gente, la caccia agli applausi, il desiderio di essere riveriti, ammirati, stimati, e cioè, diciamolo in modo un po' volgare, dei palloni gonfiati, Gesù doveva soffrire molto dentro di sé. E allora ecco questo richiamo forte ai discepoli e a tutti noi, perché in qualche modo, se siamo sinceri, tutti noi a volte diamo troppo peso a quello che pensa la gente di noi. Anche noi a volte siamo a caccia di applausi, anzi, qualche volta siamo noi stessi che applaudiamo a noi stessi il narcisismo. Gesù ci richiama concretamente a vivere liberi, ma ci richiama prima di tutto con la sua vita, prima che con le parole. Guardiamo un istante alla vita di Gesù. Gesù non ha mai cercato applausi, mai. Trent'anni a Nazareth, nessuno si è accorto che lì c'era il figlio di Dio. Gesù non è mai salito sul palcoscenico, non ha mai dato spettacolo per dire guardate che qui c'è il Messia. E cosa faceva Gesù quando pregava come risulta dai Vangeli nella vita pubblica? Si alzava presto di mattina o spariva di notte, si isolava e si immergeva nell'amore del Padre, lontano dagli sguardi di tutti, non per nascondersi. in Gesù non c'era nulla di artificiale, ma per essere nel segreto del Padre e sottrarsi ad occhi curiosi che vogliono ammirare, applaudire e poi criticare. Gesù ha passato anche notti in preghiera e l'Evangelista appena ci dà una pennellata di questo. ma anche durante i miracoli un profilo basso diremmo. Gesù non dà spettacolo facendo i miracoli, semplicemente vuol manifestare la cura di Dio del Padre per i piccoli, per le persone ferite, per tutti noi. Ma quando sente che si avvicinano gli applausi Gesù se ne va. a Gesù interessa una cosa sola, anzi due, aderire al Padre, vivere tutto nella comunione con il Padre, lui che il Figlio. Secondo, seminare il bene, guarigione, liberazione, perdono. Solo questo interessa Gesù. Non non le apparenze, non la stima, non altro. Che scuola, che scuola grande quella di Gesù. E Gesù ci fa questi richiami. Ho meditato a lungo, sapete, su questa pagina, ma non adesso soltanto. tutte le volte che nella quaresima, il primo giorno la incontriamo, perché mi graffia molto dentro. Io sento a volte di cercare l'ammirazione, la stima. Noi sacerdoti che siamo molto esposti con l'annuncio nell'incontrare le persone, abbiamo questa tentazione, ma l'avete tutti voi. Tutti, se siamo sinceri, a volte abbiamo desiderio di applausi. Gesù ci capisce e non si scandalizza, ma ci fa dei richiami molto precisi. Perché ci vuole, e faccio tre passi con voi, prima di tutto ci vuole sinceri, autentici. Tutti noi sappiamo come la falsità avvelena l'anima, avvelena i rapporti. Chi si fida di una persona quando si scopre che è falsa? Capite che la falsità devasta la fiducia nei rapporti. Per questo Gesù ci vuole autentici e sinceri. Per costruire qualcosa di autentico umanamente e religiosamente bisogna partire da questo primo passo, l'autenticità, la sincerità, la schiettezza. Per imparare a pregare il primo passo non è avere dei voli mistici, ma essere sinceri, pane al pane, vino al vino. Signore, sono un povero, sono un povero, ho bisogno di te. Ecco un passo di schiettezza, ma anche nei rapporti di amicizia il primo passo importante è la sincerità, aprire il cuore, consegnarmi per quello che sono e accogliere l'altro per quello che è. La schiettezza costruisce una vita solida. C'è un incontro del Vangelo che sempre mi incanta e si trova all'inizio del Vangelo di Giovanni quando Gesù chiama i primi discepoli, prima di tutto Andrea, poi Pietro, poi Filippo. Filippo corre da un amico, da Natanaele e gli dice abbiamo trovato il Messia, Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth e tutti sappiamo la risposta di Natanaele Bartolomeo. Da Nazareth può venire qualcosa di buono? E in questa parola si sente tutto il disprezzo, il pregiudizio di Natanaele per Nazareth. Nazareth molto al nord, al confine con le regioni pagane, era un villaggio di cattiva fama perché non c'era più la purezza della fede. intanto però Natanaele accetta di andare a vedere questo personaggio Gesù. Gesù quando lo vede lo incrocia fa uno dei complimenti più belli del Vangelo. Avrebbe potuto dire che rozzo che sei, che un uomo pieno di pregiudizi e invece riconosce la perla di quest'uomo. ecco un'israelita in cui non c'è falsità e diventerà uno dei dodici. Gesù sa bene che dove c'è schiettezza lì si costruisce sul solido. Avrà molto cammino da fare Natanaele come tutti gli altri undici e come tutti noi ma ha una base di schiettezza quello che pensa dentro lo dice fuori non è artificioso artificiale. Gesù lo guarda negli occhi lo chiama e ne farà un apostolo santo. Ecco il primo dono che vuol farci l'amore di Gesù denunciando la nostra sete di ammirazione la sincerità per diventare uomini e donne veri. In questo tempo abbiamo portato molto le mascherine le abbiamo ancora le mascherine sono utili la maschera no le maschere no chissà quante volte Elvira madre Elvira l'ha detto via le maschere se vuoi costruire qualcosa di sano e di santo per la tua vita. Un secondo dono vuol farci Gesù con questo richiamo la libertà perché dico la libertà perché quando noi diamo troppo peso agli occhi degli altri troppo peso quello che la gente pensa di me dice a di me finiamo schiavi finiamo schiavi e finiamo pieni di paura perché abbiamo sempre paura che dicano qualcosa di male o che ci vedano come realmente siamo tutti noi sapete abbiamo un po' di paura che ci vedano fino in fondo non vestiti a festa che vedano le nostre miserie dei giorni feriali quando non abbiamo nulla da difendere e allora ecco se noi diamo tanta importanza e tanto peso agli occhi degli altri finiamo di vivere di paure il voler piacere a tutti diventiamo persone confuse a un certo punto non sappiamo più chi siamo abbiamo bisogno di alzare il nostro sguardo più in alto agli occhi di Dio quelli sì ci danno libertà perché gli occhi di Dio non si scandalizzano di nulla di me e non ho bisogno di meritare l'amore ce l'ho già tutto gli occhi di Dio sono gli occhi di un padre che ama gratuitamente perdona e non finisce di amare e quando mi trova più povero certo che non gioisce ma mi ama di più per alzarmi quegli occhi mi danno la libertà e la nostra coscienza ha bisogno di congiungersi con gli occhi di Dio perché in questo modo diventiamo liberi lasciamo cadere ciò che la gente pensa di me ciò che la gente dice di me e anche ciò che io penso di me stesso ciò che è essenziale è ciò che Dio vede di me è il suo amore che mi ama nonostante tutto un amore lo ripeto che non devo meritare c'è già c'è già l'amore di Dio questo mi rende libero allora vuol dire che scusate la parola devo fregarmene dello sguardo degli altri ah no ah no noi abbiamo bisogno anche del confronto con gli altri in famiglia come in comunità abbiamo bisogno di qualcuno a cominciare dall'angelo custode che mi conferma nel bene mi sorregge nella debolezza e mi richiama anche negli sbagli abbiamo bisogno non siamo delle isole ma abbiamo bisogno prima di tutto e soprattutto che la nostra coscienza incontri lo sguardo di Dio allora ecco che gli altri sguardi verso gli altri sguardi troviamo equilibrio e allora impariamo ad amare lo sguardo di tutti e non a dipendere come schiavi ma a lasciarci confrontare a lasciarci correggere richiamare per crescere ma questa è un'altra cosa che diventare schiavi del pensiero altrui al centro gli occhi di Dio e il poter fissare i nostri occhi negli occhi di Dio questa è la preghiera e il terzo passaggio Dio ci vuole figli che si fidano di Lui c'è un passo del Vangelo di Giovanni al capitolo quinto che è molto più importante di quanto appaia a prima vista Gesù che è in polemica con i giudei che non credono in Lui a un certo punto dice una parola bruciante dice loro come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo come dire la vanità il cercare l'ammirazione e la gloria agli uni dagli altri vi distrugge la fede vi distrugge il rapporto con Dio perché voi siete schiavi dell'ammirazione questo vi chiude a Dio vi divora il rapporto con Lui non vi lascia pregare in verità voi rimanete chiusi verso il cielo rimanete tutti fermi sulla terra avete già una ricompensa magra cosa sono quattro applausi basati sull'apparenza come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo conferme in Dio perché quello che Dio vede quello è vero quello è vero allora nella misura in cui la nostra coscienza cerca il contatto vero con Dio noi diventiamo autentici diventiamo liberi diventiamo persone che credono che imparano a fidarsi di Dio e ad affidarsi a Dio ma bisogna smantellare la sete degli applausi perché certi momenti la nostra preghiera fatica fatica a essere autentica a scorrere certamente perché abbiamo i nostri egoismi le nostre falsità ma sicuramente perché diamo troppa importanza a quello che gli altri pensano di noi se in quel momento noi abbiamo l'umiltà di alzare lo sguardo a Dio e dire Signore io sono quello che Tu mi vedi non ho nulla da nasconderti perché i Tuoi occhi penetrano tutto di me voi sperimenterete e l'avete già sperimentato che in quel momento un gesto di schiettezza di umiltà vi spalanca il cuore a Dio vi apre il sentiero perché è l'umiltà la porta che ci apre a Dio non il gonfiare noi stessi non il crederci chissà chi non il darci delle arie l'umiltà la sincerità la libertà che sono già doni di Dio e qual è la ricompensa che Gesù promette se noi davvero cerchiamo lo sguardo di Dio e non semplicemente l'ammirazione umana praticamente l'ho già detto la ricompensa è la pienezza del cuore un cuore contento un cuore che sente l'amore di Dio e la sua comunione gioisce questo è un tesoro che non ha prezzo sentirsi figli amati accolti perdonati riempie il cuore nessun altro e nessun'altra cosa può riempire il cuore come gli occhi di Dio che ci approvano e allora mi sembra che sia bello se in questo in questo deserto in questa festa che fate in queste celebrazioni sovente ognuno di voi in qualunque momento cerca lo sguardo di Dio il vostro cuore si riempirà di gioia e concludo con la testimonianza di un santo il santo particolare di tutta la Chiesa ma anche della nostra comunità che si chiama appunto comunità missionaria conosciuto come città dei ragazzi ma il nome è Charles de Foucault voi sapete che il 15 maggio Papa Francesco insieme ad altri nove ha canonizzato Charles de Foucault che era beato e ora è dichiarato santo per tutta la Chiesa ebbene quest'uomo vissuto un secolo fa fino a 28 anni ha sprecato la sua vita un giovane brillante di una famiglia nobile intraprende la carriera militare le superiori le fa dei gesuiti quindi ha tutta la preparazione ma a un certo momento perde completamente la fede e comincia a vivere di apparenze proprio quello che i francesi chiamano la blaga cioè cercava l'ammirazione non tanto della sua famiglia ma degli amici era brillante voleva brillare in tutto nelle feste nell'avere delle donne più belle apparenze ma una vita che piombava nella tristezza lo dirà più tardi lo scriverà alla sera finite le feste finiti i piaceri mondani mi ritiravo nella stanza e una tristezza incredibile piombava su di me e già una vita vuota una vita di apparenze di feste di soddisfazioni non può che portare vuoto e tristezza a 28 anni sarebbe bello conoscere più a fondo la sua vita ma vado alla conclusione a 28 anni incontra l'amore di Dio attraverso un prete santo a Parigi fine ottobre 1886 1886 è una data che ricordo anche facilmente perché mio nonno paterno pensate è nato nel 1886 proprio l'anno in cui si convertiva Charles de Foucault da quel momento ha lasciato perdere il voler apparire il voler brillare il voler essere ammirato e ha cercato una cosa sola assomigliare a Gesù di Nazareth seppellirmi nella vita di Gesù sette anni di vita monastica tre anni a Nazareth cercando solo Gesù gli occhi di Gesù e lunghe ore con lo sguardo fisso al tabernacolo fino a otto ore al giorno quando era Nazareth negli occhi di Gesù attraverso l'Eucarestia e il Vangelo è un taccuino in mano in cui scriveva i pensieri che gli venivano suggeriti dal Vangelo e dallo Spirito Santo e poi gli ultimi 15 anni diventa sacerdote a 43 anni gli ultimi 15 anni li vive in Algeria nelle popolazioni nomadi perché lo sguardo di Gesù il voler assomigliare a Gesù gli riempie il cuore di amore fraterno e lui va tra popolazioni sperdute che hanno mai sentito parlare di Gesù neanche lui ne parla ma lo mostra con la vita una vita di bontà di amicizia di accoglienza di adorazione consuma la sua vita così tanto da essere stimato e amato da quella gente dai musulmani che vedevano i francesi come fumo negli occhi perché era una colonia francese ma lui nobile militare quindi colonialista per certi aspetti francese è sceso tanto da farsi amare da tutti ha gridato il Vangelo con la vita ecco cosa può fare la grazia di Dio quando noi mettiamo da parte il desiderio di ammirazione e fissiamo il nostro sguardo sull'amore di Gesù sull'amore di Dio lui fa dei capolavori e vuol farli anche in tutti noi credo che li stia già facendo perciò chiediamo davvero al Signore di avere sempre di più lo sguardo dell'amore su Gesù soprattutto per lasciarci guardare dal suo amore questo ci guarisce questo ci libera grazie a tutti